Un camerunense sarebbe stato colpito alla schiena con una mazza da baseball, pare da due ventenni mentre tornava a casa in bici. L'aggressione a sfondo razziale è stata denunciata dalla Polizia di Stato da un ragazzo 27enne del Camerun che risiede a Sarno da due anni e che ha giocato nella squadra di calcio Intercampania in prima categoria. Il giovane ospite di un progetto Sprar avrebbe raccontato agli agenti del commissariato che stava tornando in bici presso l'hotel in cui vive quando è stato avvicinato da un'auto e poi colpito con una mazza da baseball. Per i colpi subiti è stato condotto all'ospedale di Sarno.